Iniziamo a incontrare Matteo Migliorini di Agilab. Ciao Matteo e benvenuto. Ciao. Matteo, ci racconti un po' la storia del vostro brand di Agilab. Agilab nasce circa l'anno scorso, questa è la nostra seconda collezione e abbiamo deciso da quest'anno di focalizzare molto l'attenzione solo su un prodotto. Quindi facciamo una collezione monoprodotto, unicamente polo, manica lunga, con la particolarità di avere il pulsino a gemello. Poi, altra cosa molto importante da spiegare per Agilab è che Agilab è il laboratorio dell'argento. Quindi tutta la nostra collezione ha l'argento che è un po' il trellunion di tutto. Quindi lo ritroviamo nel bottone con la madreperla rivestita d'argento, nel gemello per il pulsino, nella cintura con la fibra e con la fusione d'argento e con una tasse di accessori che poi si evolveranno e ampliranno leggermente la collezione di volta in volta. Come vi trovate in questa vostra esperienza di PT Uomo 73? Ah, molto bene. Noi, la seconda volta che ci siamo, l'anno scorso eravamo a New Beats, quindi le giovani promesse nella moda. Però è molto bene, c'è un buon passaggio, abbiamo avuto buoni riscontri, il prodotto piace, quindi siamo sicuramente contenti. Grazie Matteo. Prego.